Due mesi fa il campionato italiano rally 2018 sembrava una pratica già chiusa, con il dominio assoluto di Paolo Andreucci con la sua Peugeot 208 T16. Il 10 volte campione tricolore è però incappato in due ritiri a San Marino e Roma, che gli sono valsi 0 punti a scapito della folta concorrenza, il tutto condizionato dallo spaventoso incidente che in allenamento lo ha visto coinvolto con la sua navigatrice Anna Andreussi. A Verona per il 36esimo rally 2 Valli parte leggermente favorito il duo composto da Scandola d'Amore su Skoda Fabia, attualmente in cima alla classifica con 57,5 punti totali. Subito dietro il campione in carica Andreucci con mezzo punto in meno, ma a vista c'è anche Simone Campedelli in coppia con Tania Canton. Le panteralati di Orange One Racing terze con Ford Focus hanno 5,5 punti di distacco dal leader e la voglia di bruciare gli avversari proprio sul più bello. La vittoria è l'unico obiettivo, il Cesenate lo sa bene, ma si sente tranquillo senza percepire troppo la pressione. Sa di aver fatto il possibile dando sempre il massimo, ma in cuor suo spera nel colpaccio. Spazio quindi ora alle contese con una due giorni in cui saranno 11 le prove speciali suddivise in due tappe, con oltre 150 km di tratti cronometrati e un percorso totale per le quattro categorie impegnate di 400 km.